Va bene, è stato bello. Che c'è da dire? Mi è piaciuto molto, lavorare con i ragazzi è stato bellissimo, ho ricevuto delle soddisfazioni incredibili. Lì per lì ho sentito il tumore. Come? Che è successo, no? Io cambio. Non credo di aver bisogno di dire niente. Decoce è Decoce, il gioco è il gioco. Nel gioco si vince, nel gioco si perde. Che bella sensibilità che hai portato qui a Decoce. Solitudine ed empatia. Perché sono un solitario empatico.